buongiorno sono urbano della sani moreno volkswagen audi di fucecchio vi presento oggi una nuova arrivata nel nostro parco vetture si tratta di un audi q3 2000 turbodiesel versione business la motorizzazione 120 cavalli passiamo a controllare a vedere un attimino i particolari si tratta di un bel colore nero brillante un metallizzato praticamente pari al nuovo veramente bella infatti questa macchina qui è una macchina immatricolata nel settembre 2016 alcuni particolari all'esterno quindi cerchi in lega da 17 pollici sistema di ausilio al parcheggio quindi sensori posteriori ancora particolari questa vettura è dotata di questi pneumatici quattro stagioni praticamente pari al nuovo sono veramente belli ecco qua pari xeno con luci diurne passiamo a vedere gli interni gli interni sono in tessuto di un grigio scuro ecco qua praticamente come ho detto prima pari al nuovo la vettura è dotata anche dei seguenti accessori allora intanto ha percorso come ben vedete solamente 5200 chilometri e in più questa vettura ha in dotazione anche il prolungamento di garanzia di un più tre anni o 100 mila chilometri quindi a cosa arriva prima più tre anni significa dall'immatricolazione sono 5 o 100 mila chilometri come dicevo quindi a cosa arriva prima prima a livello di scadenza ha il navigatore molto bello tutto originale con il display a scomparsa come vedete il suo autoradio con il cd naturalmente anche il bluetooth che viene comandato anche dal volante che è il volante praticamente multifunzione sotto il volante abbiamo anche il cruise control quindi regolatore di velocità abbiamo anche il clima automatico di zona questo con il suo pulsante di accensione il pacchettino a luci a led ecco qua altra cosa gli specchietti ripiegabili elettricamente mentre sui sedili posteriori anche questi praticamente pari al nuovo abbiamo il sistema del seggiolino dei bimbi isofix vi faccio vedere una panoramica degli interni del cuscotto all'esterno abbiamo anche i malcorrenti cromatici che danno proprio un bel tocco di originalità alla vettura naturalmente questa vettura è già disponibile presso il nostro punto vendita quindi non mi rimane che dirvi vi aspettiamo per la visione e la prova su strada arrivederci a presto grazie a tutti Grazie a tutti.